21 cantine in tutto il Salento, dall'Adriatico all'Oionio, dove degustare gratuitamente il vino prodotto dalle aziende vitivinicole locali. È la grande festa di cantine aperte, l'evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia che si è svolto ieri e dunque l'ultima domenica di maggio come da 12 anni a questa parte. Anche Dario Stefano, assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia, ha partecipato all'evento visitando alcune delle aziende fra le province di Lecce, Brindisi e Taranto. Noi l'abbiamo incontrato nell'azienda Mokavero di Arnesano. Aprire le cantine significa rendere trasparente il proprio processo produttivo, rendere trasparente la propria esperienza e questo è molto importante in una vicenda, quella del vino, che qualche decennio fa ci ha visto in un momento di grande debolezza con una serie di scandali che riguardavano le alterazioni. L'aprire le cantine significa dare una trasparenza al processo produttivo e legare l'appassionato, ma anche le nuove generazioni che si avvicinano sempre più al tema del vino, legarlo ad una storia che è una storia molto bella ed è anche molto coinvolgente.